Non è che gioavi contro nessuno, gioavi contro una squadra che come qualità ce l'hanno in abbondanza. Poi se te non le chiudi le partite quando hai le occasioni... Ma io onestamente me l'aspettavo che qualcosa non andava bene. Onestamente, perché da quando sono a Vellino non va bene niente. Allora, perciò va bene così, va bene in questa maniera qui. Non è mandato bene niente. Una volta era la difesa, una volta gli attaccanti. Ora so con gli attaccanti perché c'è troppo turnove. Bisogna sempre trovare qualcosa per rompere i maroni. Onestamente, no? E io non le capisco, ma quando si vince, no? Che poi vincete anche voi. Io penso che un minimo di soddisfazione senza ogni tanto andare sempre a cercare il pelo nell'uovo una volta si gioca male, hanno rotto i maroni perché si giocava male. E ci sta. Perché ognuno vede il calcio alla sua maniera e mi sta bene. Però ogni tanto, date una pace. Io non ho mai visto un ambiente così che non si gode mai le partite. Cioè abbiamo avuto la bravura e la fortuna di vincere un'altra partita, ma non sta mica scritto da nessuna parte perché ti chiami Avellino e te vinci le partite. I giocatori vanno a campo, si fanno quello che devono fare, ma a volte può andare bene, a volte può andare male, ma se va male qui si apre tiscello tutte le volte. Cioè non ci godiamo mai una vittoria, almeno da quando ci sono qua io. C'è sempre qualcosa che non torna, onestamente. Io non ho mai visto una situazione del genere. Io ho 50 anni che sono nel calcio, mai visto che non va bene quello, non va bene quell'altro, l'allenatore scarso. Va benissimo, va bene tutto. Ma quello che conta poi alla fine, sono i risultati, è la prestazione della squadra. Se non guardiamo mai oltre certe cose, rimangono sempre certi principi. Secondo me si va poco lontano. Ma io ce l'ho tanta di fiducia nei ragazzi. Io sono sempre stato, mi sembra, convinto di poter fare un campionato ad un certo livello. Senza mai dire niente, perché poi se no dicano che hai anche l'alibi, che fai quello, che fai quello. Non abbiamo fatto ritiro. E mi sembra che sia una cosa importante. Abbiamo completato la squadra una settimana prima di iniziare a giocare. Abbiamo passato quello che abbiamo passato con il Covid, girava le palle a tutti. Mai uno che c'è stato, oh ma poveri Cristi, questi non salerano mai. Gente che gioca dopo 12 giorni di Covid e sono entrati in capo, nessuno l'ha mai detto. Ma siamo umani anche noi. A volte si fa bene, a volte si fa male. Ma io quello che mi fa incavolare. Godiamo. Se è finita una partita, se è vinto a Castellammare, non è che tutti i giorni ci vinci, anche se l'Avellino ha fatto la Serie A, tutto quello che uno vuole. Ora siamo una squadra assemblata di corsa, assemblata col direttore e la società, che secondo me hanno fatto un buon lavoro, spendendo il giusto. Parliamoci chiaro, perché poi sento anche dire che abbiamo speso l'Irae di Dio. Mi viene da ridere a me. A me mi viene da ridere. Ora, un pochino, è giusto anche godersi le cose, perché se no va bene. Il secondo posto, questo momento è meritato per la squadra. Ma poi bisogna vedere come finisce il campionato. Io l'ho sempre detto, questa è una squadra che dal quinto posto in su può dire la sua.